Ecco in anteprima il brano Viva chi non conta niente di Eugenio Bennato, presentato l'8 agosto scorso a Leporano durante la Kermess, che il Mediterraneo sia in uno degli eventi dell'estate Leporanese 2019, organizzata dall'amministrazione comunale con la direzione artistica di Anna Colotta. Davvero un colpo ad effetto, un intuito non comune, quello di Anna Colotta, per essere riuscita ad avere l'anteprima di un brano che nei prossimi giorni avrà la piena diffusione e pubblicizzazione. Un testo molto significativo che si occupa degli ultimi in un momento difficile in cui si susseguono episodi di razzismo e di intolleranza, un brano che vuol difendere il diritto di esistere di chi solo apparentemente non conta niente. Un testo molto importante E' viva chi non conta niente e che continua a non contare con la sua musica di sempre, con la sua musica popolana. E' viva chi bacia la terra da cui è costretto ad andare via, ed anche se non conta niente e viva la sua nostalgia. E' viva l'arte che si ribella, essendo l'arte che ci sta a fare, e non ammette nessun padrone, e non la smette di navigare. E' viva la canzone che attraversa la frontiera, perché la sua umanità non può essere estranea. E' viva la sua vera che si muove lentamente, ma può andare dove vuole, perché va controcorrente. E' un creatore, non è un mistero, che riceve la letta, che riceve il sabra. E viva chi non conta niente e che continua a non contare con la sua musica di sempre, con il suo viaggio della speranza, che può anche andare a finire il mare. Viva l'incellità che avanza nel sogno di un lascia passare, verso la piccola grande Europa che ne ha sentito tanto parlare. La regina è l'arpe, la regina è l'arpe. Viva il senso della bellezza che va nel mondo e lo può cambiare, e non può ammettere che una razza sia meno libera e meno uguale. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.